Buongiorno a Luigi Morello, quel bastone che vedete nella sua mano è un rastrello. Siamo in una situazione abbastanza strana, siamo nei pressi del MUMAC, il museo della macchina per il caffè di Vinasco, ma qui c'è qualcosa di più, che cosa c'è Morello? Allora, qui abbiamo ricreato la filiera del caffè. Come MUMAC Academy la nostra missione è proprio quella di sviluppare la cultura del caffè, trasversale a tutto il settore. Il MUMAC Academy è un hub sostanzialmente per la filiera del caffè, dal paese di origine al Coffee Lovers o Fish on Hub, come si usa a dire in Nuova Zelanda e Australia. Il nostro obiettivo oggi è stato quello di ricostruire la filiera, quindi partendo dalla piantagione di caffè all'analisi sensoriale in tazza dell'espresso, passando dalla selezione del crudo, quindi con un cupping, analisi sensoriale, tostatura, analisi sensoriale, brewing e comunque preparazione dell'espresso, del cappuccino, latte art e un massaggio in tazza con metodo classico, in EI dell'espresso italiano. Questo per i, diciamo così, clienti business del MUMAC, per gli utenti normali che cosa resterà di questa filiera del caffè? Quando sarà riproposta? Allora, l'idea sostanziale è quella di riproporla a gettone, quindi a richiesta e comunque con delle cadenze durante l'anno. Abbiamo già avuto le richieste per alcuni team building da parte di nostri clienti, per cui clienti internazionali, che verranno qui e giocheranno e impareranno insieme a noi quello che avviene normalmente nella catena di distribuzione dell'espresso. Un grosso impegno per un costruttore di macchine per caffè, ancorché piazzato su tre marchi differenti. Perché uno sforzo del genere? Allora, intanto perché nella nostra missione come Gruppo Cimbali c'è la cultura del caffè e questo è fondamentale, fondamentale, noi siamo stati tra i primi a portare nel mondo la cultura dell'espresso italiano, abbiamo avuto corsi dai primi anni 90, abbiamo fatto, continuiamo a fare formazione anche presso le scuole alberghiere, per cui per noi la formazione è fondamentale per sviluppare la cultura del caffè. Solo chi conosce può apprezzare, di conseguenza conoscere quello che è un buon caffè è importante per apprezzarlo e poi per scegliere. Oggi quello che è sempre più importante non è solo costruire o spedire un box, ma è dare servizio. Per noi il servizio è a 360 gradi, quindi parte dalla cultura fino a chiaramente dare un prodotto. Chiunque compra un prodotto Gruppo Cimbali si aspetta e pretende della qualità eccellente. Oggi con la MUMAC Academy si vuole dare anche un supporto trasversale, non solo al nostro partner, al quale abbiamo sempre dato, ma anche al cliente finale, al cliente del nostro cliente, al partner nostro del nostro cliente, quindi Torre Fattore, che è sempre più fondamentale, esercita un ruolo importante in tutto il mondo, e quindi iniziare ad essere sempre più interattivo e sempre più propositivo proprio verso di loro.